Fortunatamente c'erano gli altri ragazzi, se no presumo che questo era veramente, perché già in quei pochi secondi mi sentivo che non respiravo più. Non oso immaginare se fosse continuato. E' ancora sotto shock dopo l'aggressione subita Valentina Pinarello, barista da un anno e mezzo al Dunbar nel pieno centro di Cornuda. I clienti, fa sapere il titolare, sono sempre avvisati del sovrapprezzo che il locale applica per i pagamenti via post e così è avvenuto anche per il ragazzo sulla Trentina servito dalla barista. Dopo aver saldato il conto, questo se n'è andato, salvo poi richiamare il bar accusando la ragazza di averlo derubato dei 50 centesimi aggiunti alla consumazione. Dopo un quarto d'ora, sì più o meno dieci minuti e un quarto d'ora, è ritornato, arrabbiato, è subito salito dietro il bancone dicendomi che io l'avevo derubato, che dovevo dargli indietro i soldi che avanzava, anche se erano solo 50 centesimi, però che lui doveva averli indietro, neanche tempo di rispondergli che avevo già le mani sul collo. Un fatto successo in pieno giorno, erano infatti circa le 17.30 e con il bar pieno di clienti. Ho solo sentito la ragazza, la barista, che diceva stai fermo, stai là. Mi sono girato e ho visto che il signore era andato dietro il bancone e le aveva messo le mani intorno al collo e la stava iniziando a strangolare. Primo istinto, mi sono entrato e ho bloccato il signore facendogli pressione, bloccandogli il collo così che lui mollasse la presa del collo della ragazza. La ragazza aveva la faccia viola perché comunque la stava strangolando e in quel momento poi sono arrivati altri tre signori che mi hanno dato una mano. Vicenda che si è conclusa con l'arrivo dei carabinieri. Dopo gli accertamenti in ospedale, la ragazza se l'è cavata solo con un'infiammazione al collo, ma restano lo shock e l'amarezza per il fatto accaduto. I pensieri ci sono perché pensi a tutto quello che è successo, ti viene comunque da pensare e non riesci a darti una spiegazione a certi comportamenti. Per Valentina un ultimo giorno amaro, presto, lavorerà in un altro locale più vicino a casa. Quello che è certo è che continuerà a fare il suo mestiere nonostante il brutto episodio vissuto. Sicuramente ti fa riflettere, però c'è la propria passione, quindi continuerei comunque a fare l'amarezza e non cambierei niente. Grazie a tutti.